Nelle ultime 24 ore sono 776 pazienti positivi al Covid con isolamento domiciliare dell'intera provincia, di cui 292 pazienti di Gela, 127 di Caltanissetta, 82 di Niscemi, 38 di San Cataldo e così via per il resto dei comuni. Tre i nuovi decessi, due pazienti di Gela e uno di Caltanissetta, sono quindi 333 le persone decedute per Covid. Ad oggi la sola Caltanissetta conta 1.527 positivi, nessun nuovo ingresso in ospedale, 128 i guariti. Tornando ai dati provinciali complessivi, sono 5 i pazienti in terapia intensiva e 67 i malattie infettive. L'intera provincia nissena raggiunge quindi gli 8679 pazienti positivi in quarantena domiciliare.